ciao a tutti e benvenuti sono stefano e innanzitutto mi presento sono il manager della parte di data integration in cvs nonché una delle persone certificate nell'ambito bumi che andremo a presentare ma partiamo dalle basi cos'è bumi bumi è una piattaforma ipas che permette di integrare fonti dati che sono sia un premise che è un cloud in maniera facile veloce intuitiva e con un metodo di sviluppo low code ovvero un metodo che permette di utilizzare poco codice sorgente ma facciamo un passo ancora più indietro cos'è un ipas ipas è un acronimo che sta per integration platform as a service ovvero una piattaforma che è stata installata su web e che ci permette come clienti di utilizzare un browser web per poter creare il nostro processo di integrazione dati andandolo a sviluppare in prima battuta andando poi a deployare quindi mettere in produzione per mettere al processo di essere lavorato e tenerlo sotto controllo in maniera molto veloce e intuitiva rimani connesso con noi per altre pillole sul mondo bumi a presto